Buongiorno a tutti, bentornati sul canale Allora, intanto scusate il ritardo Ve lo sto dicendo in tutti i video ormai ultimamente su quelli che giro Ma, vabbè, questo video doveva uscire stamattina alle 8 e mezzo Perché doveva essere stato girato sabato Siamo a lunedì alle ore 10.54 Sto girando il video adesso Ma va bene, scusate la miss da casa Ma devo uscire dopo e adesso c'era veramente tantissimo freddo Perché non abbiamo acceso i riscaldamenti Quindi, vabbè, c'ho i pinguini in casa E niente, quindi sono con la felpona perché c'è veramente tanto tanto freddo Detto questo, torniamo al knitting vlog E iniziamo a vedere cosa ho prodotto questa settimana La settimana scorsa, avete visto, il knitting vlog non è uscito Non per pigrizia, non per mancanza di tempo Ma perché non avevo niente di pronto da farvi vedere E quindi ho detto, o mi metto davanti alla telecamera E parlo a ruota libera Ma questo lo faccio già abbastanza Mi tolgo gli occhiali perché riflettono tantissimo Tanto, fortunatamente ho cose grandi da farvi vedere Ho detto, oppure Che si fa? Non lo faccio, faccio prima Tanto, se non avevo niente C'era poco da farci un video su Quindi, detto questo Partiamo con Questa Borsa coloratissima Che mi piace un sacco Ci sono ancora tutti i fili da fermare Ma vabbè Che ho fatto con il Papatia Sendai Quel filo Brutto Ma è brutto solo da lavorare Perché poi la resa è stupenda in realtà Che era un 100% microfibra acrilica Ma non mi scorreva sull'uncinetto E non mi piaceva da portare addosso Quindi Ci ho fatto questa borsa Perché Al tatto è un po' plasticoso E quindi ci ho fatto una borsina a rete Giusto per Ne ho ancora tre gomitoli e mezzo Adesso vediamo cosa Cosa ci salterà fuori Questa mi piace Davvero tantissimo Non è gigante Però È bella capiente comunque Anche perché poi il punto rete È bello elastico Si allunga Si allarga Come uno lo tira Insomma Anche questa C'ha un po' di filetti in giro Adesso li passerò Dentro la trama E poi è pronta Ci metterò la spillina con il logo E questa è fatta E questa è la prima Almeno ho trovato il modo Di usare quel filo Adesso ci voglio fare anche La pochettina abbinata Quella di plastica Che rivesto sempre Sempre con lo stesso filo Tutto appunto alto Proprio semplice Semplice Giusto per togliere di mezzo Un altro po' di filo E per avere un astuccino Da poterci mettere dentro Per non perdersi le cose Perché se no Tutto appunto rete Anche le chiavi Le penne Ciao Le chiavi magari no Però Le penne I trucchi Magari Non lo so Non mi Avere una bustina Più chiusa dentro Mi piace Poi Ho tutte le cose qua Appoggiate Perché non ho il tavolino Oggi Finita anche Questa cuffiotta Per Per bambini di Boh 6 mesi Questa è Più o meno È fatta con il Chuck Batik Party Candy Non lo so Il Chuck Batik Comunque Di questa colorazione Fatta apposta Per una bimbetta E anche questa Partirà per altri lidi Non so se metterci Un fiorellino Qualcosa di O un pompon gigante Qua sopra Non lo so Sono indecisa Perché è già colorata Però Boh Troppo liscia Non lo so Ditemi voi O pompon o fiore Fiore o pompon Lasciatemelo scritto giù Che poi vi leggo Poi Terminato La sciarpa Della fatta tutto fare Ci devo attaccare Il bottone Questa è fatta tutta Ad un cinetto Tunisino E vabbè Che poi va vista Per così In verità E mi manca Solo Il bottone Quindi Ce lo attaccherò Non so quando Perché è ferma lì Da due settimane Io sono così Io i progetti Li finisco Ma quando c'è Da attaccare un bottone Quando c'è Da nascondere un filo Stanno lì dei mesi Non lo so Perché faccio così Ma era caduto L'avanzo del filo Non lo so Perché faccio così Ma io Li lascio là A macerare Nella speranza Che si Finiscano da soli Non è mai successo Tra parentesi Poi Vediamo Vabbè Qua ci sono Questa lo faccio vedere Per ultimo Che c'è una Parentesi Da aprire Allora La giacchina Sta andando avanti Ho chiuso lo sprone Stanotte Ho aggiunto un po' Di catenelle Scusate Io ancora Non sto bene Però Ormai ce la teniamo così Quest'inverno Infatti sentite anche la voce Non è proprio il massimo Ma vabbè Allora Ho chiuso lo sprone Stanotte Ho aggiunto 8 catenelle Per lato E Sto lavorando Con l'uncinetto Del 4 e mezzo Questo è il secondo Gomitolo Ne ho 6 Dovrei riuscire A fare Vabbè La manica lunga E la giacchina Un po' lunghetta Almeno sotto i fianchi Sotto il bacino Anche Però Se vado giù dritta Adesso Senza più aumentare Dovrei farcela Perché comunque Qui ho fatto lo scollo a V Ma adesso tra un po' Lo chiudo E riprenderò Facendo un bordino intorno Perché anche qui Andranno attaccati i bottoni Questa la devo finire per forza Perché la devo consegnare Quindi Mi devo muovere Un'altra consegna Che devo fare Venerdì È lo shawl Appunto virus Che ha dato avanti Un pochino Ieri Ma non tanto E mi mancano Tipo due giri E le frange Cioè due giri Due motivi In realtà Quindi sono Quattro giri Due motivi interi E le frange Questo è diventato Bello grande Non ci sta neanche tutto In telecamera E vabbè Però è tutto nero Ve l'avevo già fatto vedere È cresciuto E questo va in consegna Venerdì Quindi anche questo Mi devo muovere A finirlo E anche Alla svelta Poi Sto facendo Questo Top down Ai ferri Che ha raccolto pelucchi In giro Come se piovesse Allora adesso ve lo giro Ve lo faccio vedere Come ve lo faccio vedere Ho il cavetto piccolo Mannaggia Alla miseria Arrivo eh Allora Ve lo faccio vedere così Questo è Giza Delle Knitting for breakfast E vi dico già Che ho sbagliato L'ultimo giro Ma non ho intenzione Di disfarlo Minimamente Perché Non soddisfare i ferri Quindi se lo disfo Lo disfo tutto Ma visto che ci ho messo Tre giorni Solo per arrivare qua Non esiste Che io lo disfi tutto E quindi L'ultimo giro Rimarrà sbagliato E proseguirò Come da schema È È un top down Abbastanza semplice Non è difficile Perché i punti lavorati Sono solo dritti e rovesci C'è un'alternanza Da seguire Ma sono solo dritti e rovesci Non è Appunto Difficile come punti Per me è difficilissimo Seguire gli schemi Però Quindi Mi ci sto impegnando Ma non so se lo finirò Però Vabbè Per ora È qua A parte appunto Questo errore Nell'ultimo giro Ma Vabbè Pace Lo sto lavorando Con La rocca Di lana Che avevo preso Da Americanos Questa color petrolio E la sto lavorando Con i ferri del 3,5 Non so cosa verrà fuori Anche perché Io sto seguendo Le indicazioni Per due taglie diverse Nel senso che La Lo schema Mi diceva di montare Un tot di maglie Per la taglia M O Un tot di maglie Per la taglia L Io Con le maglie Per la taglia M Non riuscivo Fisicamente A chiudere Lo Lo scollo Non mi arrivavano Non Non toccavano proprio Quindi Ho montato le taglie Per la taglia L Poi Lavorandolo Però io non sono Una taglia L Quindi cosa ho fatto Ho fatto meno aumenti Per avere Il numero di maglie Della taglia M Quindi non lo so Cosa salterà fuori Non lo so E fino a Qua Oddio scusate Lo stavo vedendo solo io Fino a qua È una taglia L Poi dopo Dovrebbe essere una M Però vabbè Pazienza Ho solo fatto meno aumenti Nel senso che Dovevo avere Che ne so Sparo a caso 180 maglie Per la taglia L Io mi sono fermata 160 per la taglia M Non lo so Cosa verrà fuori Non ne ho idea Anche perché Ultimamente Non ci sto lavorando Ovviamente Perché sto Sto facendo altri lavori Che devo consegnare E non Non mi ci sto dedicando Anche perché Questo Io mi ci devo Concentrare tantissimo E quindi Ultimamente Non ho proprio la testa Per starci dietro È È mollato Un po' lì Tanto lo schema Ce l'ho stampato Quindi Non è un grosso problema Lo Lo farò Quando avrò tempo Mi ci rimetterò E Vediamo cosa salta fuori Al massimo lo disfo Alla peggio disfo tutto Però Non volevo Perché mi sembra Che stia venendo Abbastanza benino A parte qua Che c'è qualche punto Un po' più larghetto Qui Però vabbè È perché io Quando faccio i rovesci Tengo la mano più larga Quindi Lavandolo Poi si sistema Mi succede sempre Sempre Fisso Quando lavoro A maglia rasata Il ferro di rovescio Lo tengo Un mezzo numero Più piccolo Quando faccio i punti elaborati Non posso stare sempre A cambiare le punte Quindi viene Leggermente più larghino Ma Poi Con il lavaggio Va Va a posto Non è Non è Un grosso problema La tensione Poi mi si sistema Allora Ah Poi Un altro progetto Scusate Mi è venuto in mente ora Un altro progetto Che ho finito Sono dei guantini Grenny Senza dita Ma li ho già consegnati Perché c'era fretta Di consegnarli Però ho fatto le foto Ve li lascio Adesso Nel Nel video Questi che avete visto Li ho realizzati Con Un filato Per calzini Che mi ha regalato Luca Sforza Grazie Luca E lo vedete Il filato Lo potete vedere Giovedì Nell'unboxing Che uscirà Che vi ho girato E E l'uncinetto Del 3 E del 2,75 Il 3 Per le mattonelle E il 2,75 Per i bordi Sopra e sotto Sopra E sotto E basta Semplicissimi Come sempre Due mattonelle A Grenny Pieno Però non Il 3,1 Ma la Grenny Square Piena E i bordi E i bordi A coste 1,1 Costa Rilievo Davanti Costa Rilievo Di dietro 5 giri Per il sopra 7 giri Per il sotto Proprio Facili Facili Veloci Niente di che E Basta Quelli Li ho regalati Alla mia nonna Perché Praticamente Mia nonna Soffre Molto Di dolore Alle mani E la lana Per calzini E' bella Perché è sottile Ma tiene molto caldo Quindi Lei se li mette Anche da stare in casa E Non avevo più Lana per calzini Credo Dovrei scavare Nell'armadio Ma Mi rifiutavo di farlo Infatti ho detto Piuttosto compro Un altro gomitolo Ma in quell'armadio Non ci metto mano Al momento Perché non ho Né testa né voglia Né tempo di farlo E Invece Luca Mi è venuto in soccorso Non volendo Cioè Non Non sapendo Non era intenzionale la cosa Però è stato carinissimo Mi ha regalato questi due gomitoli E uno Beh Mezzo L'ho usato per fare Questi guantini E quindi Grazie Luca E È stato molto molto carino Poi Lo vedete meglio poi Nel video prossimo E Niente Appunto Giovedì uscirà L'unboxing Del Del Paco che mi ha Mandato Luca Quindi guardatelo E se non siete iscritti Al suo canale Iscrivetevi Luca sforza E pensavo Se riusciamo Se riusciamo Però non prendetelo Come è Sabato Faccio uscire Il Video Sui libri Che mi avevate chiesto Se vi va Se riesco Non garantisco Non garantisco Perché questa settimana Sono un pelino Di corsa Dobbiamo iniziare di nuovo A preparare per i mercatini Per le fiere E Ve l'avevo già detto In un video Ma che uscirà Cioè l'ho girato Inizio mese Ma uscirà Inizio marzo Quindi ve lo anticipo Già Sto aprendo la partita IVA Sto aprendo la partita IVA Per aprire un negozio Online Negozio online Non fisico Perché C'erano troppissime spese Online Riesco ad aprire un negozio Abbattendo le spese E quindi L'impegno è tanto Anche se Solo un negozio online È un vero e proprio lavoro E soprattutto Nel momento dell'apertura Richiede una quantità tale Di concentrazione Di impegno Che Non dico che non lo augura nessuno Perché è una cosa bellissima Era quello che io volevo fare E lo sto facendo Ma complice anche il fatto Che io ultimamente Non sto bene Di salute Sono un po' in alto mare Mi sento un po' in barca Quindi I video Usciranno Perché usciranno Se non escono È perché non ho niente di pronto Da farvi vedere Quindi è inutile Che io mi metto a girare un video Se Escono Escono Come da programmazione Magari un po' in ritardo Tipo oggi Ma escono E E niente Quindi Ci sarà questa cosa In più Come vi dicevo Nell'altro video Per chi già Acquista da me O per chi Vorrà fare acquisti In futuro Cambia solo la modalità Di acquisto Cioè se ora Passate da me Attraverso la mail Attraverso il numero di telefono Attraverso i canali social Dopo passa tutto Attraverso il negozio online Per gestire pagamenti Spedizioni E tutto qua Come comprare su Amazon Io non sono Amazon Ci metterò un pelino di più A spedire Ma Fondamentalmente è questo Soprattutto se Le richieste sono su cose personalizzate Sul visto è piaciuto Posso anche spedire subito Non mi interessa Quello Anzi Non ho interesse Di tenermi la roba in casa Più di quanto Non l'abbiate voi ad averla Ecco Ma Sulle creazioni personalizzate Ovviamente Ci vuole tempo Quindi Questo La novità Del mese Mi sono fatta il regalo Di compleanno E Ho Ho deciso di Di aprire Per ora Devo Ancora Aprire la partita IVA Io sto iniziando A fare i corsi Per aprire il negozio E Quindi anche quelle Sono ore e ore Di corsi Che si vanno ad aggiungere Al lavoro Alle commissioni A I lavori Sordinazione La casa La spesa Gli animali Tutto quanto Sto dormendo No Ve lo anticipo Già No Poco e niente E Tutto questo malessere Non aiuta Se stessi bene Anche magari E dico Magari Sarebbe meglio Però Prendiamo quel che c'è E va benissimo Così E Detto questo Io vi saluto Abbiamo fatto un video Abbastanza veloce Oggi Ma la voce Mi sta calando Quindi C'ho poco da parlare E Vi saluto Vi lascio Un grosso bacio Un abbraccio E al prossimo video Ciao Ciao Ciao